salve ragazzi un breve video sono venuto a vedere l'arnia quella in cui l'altro anno si sono insediate da sole le api quindi di fatto uno sciame quasi selvatico diciamo vediamo dopo quest'inverno ancora se non è finito ma periodo bruttissimo eccole qui sembra abbastanza bene vediamo un attimo dentro ha molte scorte ecco vedete quando ci sono le scorte sul vetro vuol dire che il resto dei favi è pieno c'è un po di umidità l'ho costruito anche sotto ottimo va bene ci va a sperare per la primavera inverno non è finito ma credo che dopo questo periodo super piovoso mi sembrano abbastanza attivo volevo vedere se c'è della covata fa molto freddo eh comunque fa molto freddo ci saranno 6 gradi 7 massimo vediamo questa un attimo come le altre importano polline comunque soprattutto le famiglie più grandi eccola quella ne aveva un po sì 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 perfetto ok e allora ottimo ottime speranze per la primavera va bene era solo un breve video da leonardo dobbari è tutto vi saluto e grazie a tutti gli iscritti e a chi mi segue grazie a tutti